Ci troviamo al Giardino Florio, all'interno del parco La Favorita di Palermo. Situato ai piedi del Monte Pellegrino, il parco ha un'estensione di circa 400 ettari. È stato creato nel 1799 dal re Ferdinando III di Borbone, dopo la sua cacciata da Napoli da parte delle truppe napoleoniche. Dal 1995 il parco fa parte della riserva naturale orientata regionale Monte Pellegrino. Come potete vedere, il Giardino Florio è meta giornaliera ed occasionale di sportivi di ogni età. Oggi ascoltiamo i pareri di alcuni frequentatori del Giardino per capire lo stato attuale di questo bene comune. Siamo fruitori abbastanza frequenti del parco. Le cose positive, un parco del genere è una cosa bellissima per la città di Palermo. E in ogni caso quella negativa potrebbe essere, ci vorrebbe una manutenzione sicuramente maggiore. Io vengo qui ogni mattina per un'oretta e mezza circa, trovo uno che sia uno spazio abbastanza bello all'aria aperta. Dovrebbe essere un tantino più curato chiaramente come un po' tutte le cose in città. Dal momento che è l'unico polmone verde che abbiamo in questa città, perché è una città invivibile per la sporcizia, per il traffico e per tutto il resto, per i rumori. Sarebbe bellissimo se la favorita fosse aperta totalmente ogni giorno alla gente, evitando questo scorrimento di macchine che sono pericolosissime. La domenica mi accorgo che la macchina non circola. Mi rendo conto quanto è bello perché la gente porta i bambini a fare delle passeggiate. Quindi è stupendo, sarebbe meraviglioso se questo parco fosse totalmente dato alla gente. Quando gli impegni di lavoro consentono veniamo a fare due passi o una corsetta e cose varie. E' sempre bello stare all'interno, proprio stamattina ne parlavamo, perché comunque sei immerso nella natura e c'è tanta vegetazione di vario tipo, incontri tanta gente, incontri anche degli amici che magari non vedi da tanto. Quindi è una cosa positiva sicuramente. Io solitamente non vengo nel parco per diversi impegni. Una cosa positiva posso dire che di solito è abbastanza curato. Una cosa negativa è sicuramente il fatto che ci sia un accampamento rom vicino e che vengono spesso a giocare nel parco dei bambini. Tutte le città grandi europee ci sono dei parchi ben organizzati con attrezzi per i ragazzi e questo li toglie anche dalla strada. E' una cosa importante perché i ragazzi che fanno ginnastica vengono tolti dalla strada. Qua purtroppo denoto una quasi totale non curanza del parco. Gli attrezzi là in legno sono ormai male andati, sono distrutti. Ci vorrebbe solamente un pochino di manutenzione e partecipazione da parte del comune.